Qui c'è il motorizzato razziale, qui c'è l'acqua razziale, qui c'è il ciclo colibolare che le dicevo io e faccio quello razziale, qui c'è l'acqua razziale, qui c'è l'acqua c'è il ciclo, è un asse, noi non l'abbiamo quasi mai, faccio presente, va bene, c'è tutto la manina raccoglie il pezzo, c'è tutto, come vede? in piedi La porta La torta Ora fate un video e vai dare a gira, non c'è problema.